Una piazza di spaccio situata in modo strategico vicino ad alcuni dei più conosciuti e frequentati istituti scolastici di Foggia, il liceo classico Lanza, l'istituto magistrale Poerio, la scuola Medi Alfieri e alla stessa università. È quella dove agiva un gruppo di spacciatori arrestati stamane dagli agenti della squadra mobile nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, 13 in carcere e 4 ai domiciliari a carico di altrettante persone. Queste ultime sono accusate di detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, ascisce e marijuana. Le indagini, iniziate da ottobre del 2015 e concluse a gennaio del 2016, hanno accertato un'intensa attività di cessione della droga in Piazza Italia, punto di ritrovo di molti studenti, anche minorenni. La droga era venduta al dettaglio e al grammo al prezzo di 3,5 euro per la marijuana e 5,10 euro per l'hashish.